Molte volte ci domandiamo dov'è la passione, dove sono le emozioni, dov'è la ricerca di introspezione in se stessi e dov'è quella magia che ci porta alla recitazione, alla ricerca del punto di riferimento proprio nel mondo dello spettacolo. E quindi in questo momento ve lo sto presentando questo punto di riferimento. Qui abbiamo Raffaella, una splendida ragazza, veramente molto intensa, ha un personale importante, ha una passione forte per questo mondo e voglio parlarne proprio con lei. Allora, prima di tutto presenti un attimino il nostro mondo che ti sta guardando. Sì, io mi chiamo Raffaella Riccio, vengo da Anzio, fin da piccolino ho avuto la passione per la recitazione, e amo proprio il mondo dello spettacolo, tutto ciò che riguarda il campo della recitazione, del ballo. Io lo faccio con tutta me stessa, mi ci dedico con tutto il cuore. Ora, questo l'abbiamo visto e lo state vedendo anche voi, tra le nostre foto così appassionate e il nostro video così forte. Lei è veramente una ragazza appassionata, lo si vede e lo si sente. Ha già lavorato, ha già fatto tante cose. Tra queste cose, vediamo se ci riesci a raccontare qualche tua esperienza. Sì, ho fatto circa, quando avevo 18 anni, un cortometraggio, molto significativo, proprio perché parlava di alcuni ragazzi che avevano purtroppo preso una brutta strada, però poi con l'aiuto della loro personalità sono riusciti a uscirne fuori. Ed è stata un'esperienza molto, molto bella per me. Ma diciamo che Raffaella non si rivolge soltanto al mondo del cortometraggio, o della fiction o della tv, delle immagini in movimento. E' anche molto forte come immagine, come presenza, per ciò che riguarda le fotografie. Perché è uno splendido personale e una grandissima espressività. Grazie, ti ringrazio. Ti piace essere fotografata? Molto. Molto? Sì. Che foto preferisci? Qual è il tuo... A me come foto mi piacciono tutti i generi, ho partecipato anche a vari book fotografici per alcune categorie tipo intimo, abiti da sposa, però non ho preferenze. Devo dire che la fotografia mi piace a 90 gradi. Ti piace il tuo cuore, questa è una cosa importante. Allora, vi lasciamo adesso un attimino con qualche altra immagine della nostra splendida amica. vi lasciamo a far vedere alcune foto spettacolari che la riguardano. E vi lascio proprio con un saluto di Raffaella. Salute ai nostri ascoltatori. Vi saluto a tutti e vi auguro tutto il bene di questo mondo. Ok, grazie. Ok, grazie. Vorrei morire a quest'età, vorrei star fermo mentre il mondo va. Ho 15 anni, programmo alla mia drum machine e suono la chitarra elettrica. Mi spacco il culo, è questione d'equilibrio, non è mica facile. M-D-M-A, ma le mani inchiodate. E se c'è già lui faschei, non abbiate pietà, crocificetelo. Sfigurate il mondo con la manza d'agò. Alleluia, alleluia. Mi piace il metal, la R&B, ho scaricato tutto nella 3D. filmato il porno. E vado in chiesa e faccio sport. Prendo pastiglie che contengono. Cosa ti è successo? Così, all'improvviso? Io non l'avevo mai capito, mai. Mi hai preso in giro, solo in giro, tutto questo tempo. Mi hai ferito nel profondo. Non potrò mai, mai perdonarti. Uccidimi, fai quello che vuoi. Ma non avrai mai, mai la mia anima. Mai. Non patrò mai.